In quel momento, nero su bianco, c'era la mia guarigione. Nero su bianco, una nuova vita. A causa di una siringa infetta mi ammalai di epatite C. Inizialmente si parlò di terizia e di quarantena. Poi si disse che probabilmente era una malattia cronica. E dopo si disse che era veramente epatite C cronica. Ciò significa che sei inguaribile. Per anni dovetti prendere prednisone e pesanti preparati di ormoni. Per undici anni visitai tutti i medici. E anche tutti i medici alternativi. Ma nessuno riuscì ad aiutarmi. Era ormai disperato. Non sapevo più come andare avanti. Non volevo più vivere. Urlai in questa stanza. Dio mio, portami via da questo mondo. Era terribile. Non ne potevo più. Casualmente dopo due settimane arrivò un libro di Bruno Gröning inviatomi da mia madre. E lo lessi. Nel libro c'era scritto Datemi la vostra malattia e io la porto via. Allora pensai Finora questo non me l'ha detto nessuno. Neanche i naturopadi. Invece questo uomo lo afferma. La sera andai a letto come un bambino e dissi Bruno, se mi senti prendi tutto. Non ce la faccio più. Non ho più forze. E nell'istante in cui consegnai tutto Venni invaso da qualcosa che anche oggi non so descrivere. Era una forza, un calore, un formicolio dall'alto in basso. Sentii che poteva provenire solo da Dio. Pensai Può essere solo il bene. Ciò mi diede così tanta fiducia, così tanta fede nella guarigione che dopo quattro mesi andai dal medico per fare delle analisi. Il medico analizzò tutto sia i valori del sangue che il fegato con un'ecografia. Quando andai da lui per esaminare i risultati entrai, mi guardò e disse Cosa hai fatto? Cosa ho fatto? Sono innocente. Non è possibile. Ho appena parlato con l'esperto, con l'internista si dice così e lui dice che non è possibile che non ci siano tracce residue nel sangue. Dovrebbe vedersi qualcosa. Non ha più cicatrici sul fegato. Non è proprio possibile in quattro mesi. I tuoi valori sono buoni. Cosa hai fatto? Ho risposto semplicemente il buon Dio ha aiutato. Lui non ci poteva credere e disse Sei nato con la camicia? Hai avuto fortuna. In quel momento avevo nero su bianco la mia guarigione. Nero su bianco una nuova vita. Prima la mia vita era come quella che vivono tante persone. Un giorno dopo l'altro piena di problemi costellata di molti dolori e molte preoccupazioni. Improvvisamente era così leggera. Niente più dolori. Nessuna paura per il futuro. O problemi. Semplicemente sapevo che avevo ottenuto la guarigione grazie a Dio. Ho ricevuto aiuto. e Dio mi può aiutare anche in futuro. Non serve avere paura o incertezza. Questo ti dà molta forza e molta fiducia nella vita. Un solches vertrauen fürs Leben. Grazie a tutti.